Siamo molto contenti, è inutile nasconderlo, siamo molto contenti, è un risultato molto importante, fatto su un campo molto difficile, con una squadra che arrivava da sei vittorie consecutive. Qui la settimana scorsa ha perso Sassari, quindi un motivo di grande soddisfazione, due punti molto molto preziosi per la nostra classifica, però sicuramente siamo consapevoli che il campionato non finisce e che abbiamo ancora un passo da fare e saremo super già concentrati, focalizzati e orientati a fare il meglio possibile domenica prossima, però sicuramente questa sera abbiamo fatto una partita molto solida, giocando ad altissimo punteggio, giocando tatticamente penso una partita intelligente, una partita con le scelte giuste, i giocatori hanno fatto, ognuno a modo suo ha fatto qualcosa di importante, Canessi a tre punti, difesa, rimbalzi, anche una stoppata è stata importante, abbiamo avuto le idee chiare con i playmaker, è una partita, penso, una partita importante. Quanto a peso specifico per noi ne aveva di più che per Treviso, però sono sicuro che poi alla fine questa è una differenza non così importante, perché nessuno ci tiene a perdere, soprattutto in casa, se Treviso avesse giocato non al 100%, non avrebbero fatto 90 passapunti, non avrebbero fatto 52 punti il primo tempo, Treviso ha giocato al 100%, noi abbiamo giocato al 100% e abbiamo vinto noi, senza niente togliere a Treviso, però sicuramente oggi abbiamo fatto una partita di grande livello. Grazie.